Prende avvio oggi alla Camera l'esame del decreto agosto, che contiene diverse norme che riguardano la scuola. Per la verità è ormai assodato che i deputati avranno ben poco da dire, in quanto il provvedimento è già stato approvato dal Senato con diverse modifiche. Peraltro i tempi per l'approvazione definitiva sono strettissimi. Per evitare che il decreto decada bisogna chiudere assolutamente entro martedì 13. Come si dice in questi casi il decreto insomma è blindato e alla Camera quindi non ci sarà di fatto nessun dibattito. Ma quali sono le misure più importanti del provvedimento? Vediamo. Intanto vengono stanziati 920 milioni per le spese del personale docente ATA necessario a fronteggiare l'emergenza Covid. Una quota consistente di questa somma riguarda i contratti a tempo determinato per i cosiddetti docenti Covid, per i quali le scuole hanno già avuto autorizzazione a nominare da parte degli USR. Altri 80 milioni serviranno invece a sostenere le iniziative promosse da reti di scuole, enti locali e associazioni per l'attivazione di patti territoriali finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole stesse. Di particolare rilievo in proposito è la misura introdotta proprio durante il dibattito al Senato sulle norme che regolano le assunzioni di questi docenti. Il decreto rilancio convertito in legge dal Parlamento agli inizi di luglio prevedeva che i docenti precari assunti sui posti di organico Covid avrebbero dovuto essere licenziati nel caso di sospensione dell'attività didattica per lockdown totale o parziale. Nel passaggio al Senato questa disposizione è stata modificata, anzi è stata cancellata, quindi i docenti nominati su questi posti saranno comunque retribuiti fino al 30 giugno. Altra misura significativa riguarda il tema della valutazione nella scuola primaria. A inizio settembre una nota del Ministero chiariva che la modifica introdotta a suo tempo con la legge di conversione del decreto scuola di inizio giugno relativa alla eliminazione del voto numerico alla scuola primaria doveva intendersi applicabile solo alla valutazione finale ma non a quella intermedia per la quale sarebbe rimasto in vigore il voto. Adesso il Senato ha corretto questa palese incongruenza e ha stabilito che il voto è definitivamente abolito in tutto il corso della scuola primaria, sia nelle valutazioni finali sia in quelle intermedie. Il Senato ha poi provveduto ad inserire nel testo del decreto un nuovo articolo dedicato al problema dei direttori dei servizi generali amministrativi. In pratica la norma consentirà di assumere anche in corso d'anno i DSGA inseriti nelle graduatorie di merito pubblicate entro il 31-12-2020. La disposizione però non piace ai sindacati perché in tal modo, con la presa di servizio dei DSGA neoassunti, saranno revocati gli incarichi degli assistenti amministrativi facenti funzione. I sindacati però protestano anche su ciò che nel provvedimento manca, poiché si aspettavano una norma che bloccasse o almeno rinviasse i concorsi straordinari e ordinari. Invece la Ministra non ha fatto un passo indietro, tanto che per il prossimo 14 ottobre i sindacati hanno già organizzato una manifestazione nazionale, dei precari. E non mancano neppure le proteste dell'opposizione. La Lega sta cercando addirittura di far mettere all'ordine del giorno dell'Aula del Senato il voto sulla mozione di sfiducia alla Ministra Azzolina. Per il momento la conferenza dei capigruppo, che deve decidere in merito, non ha calendarizzato la richiesta, ma il partito di Salvini ha già fatto sapere che l'appuntamento è solo rinviato. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci sia su questo canale sia sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.